ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video post partita di milan sampdoria partita che abbiamo appena finito di far la reaction sul canale milan inside link in descrizione o comunque come leggete nel box qua sotto di tutti i nostri social lo potrete trovare su twitch sotto quel nome e niente che dire partita amarissima partita dal risultato super amaro prestazione comunque ovviamente non sufficiente da parte di tutta la squadra fra poco vedremo anche i voti partita iniziata malissimo ovvero con i primi 15 minuti diciamo di non dominio samp però fondamentalmente gli abbia lasciato fare quello che volevano gli abbia lasciato fare gli abbia lasciato scusate gli abbia lasciato creare determinate occasioni perché comunque sbagliavamo passaggi sbagliavamo marcature esempio stupido la grande parata di donna ruma su torsby lì un pochino lasciato a sé torsby ecco il tiro comunque di gabbiadini è stata una loro occasione noi nel primo tempo siamo venuti un po fuori verso la fine ecco una partita che se tu come dici nelle varie interviste voler lottare addirittura ancora per il sogno scudetto queste partite qua tu le devi giocare ad occhi chiusi con grinta voglia di vincere determinazione quindi tutte queste cose qua automaticamente ti fanno eliminare determinati errori determinati in modo modi di giocare ecco cioè non mi è piaciuto per niente l'approccio della squadra nel primo tempo nel secondo tempo men che meno per il gol subito perché fondamentalmente ci siamo fatti autogol noi punizione per noi fuori dalla nostra area che si gioca tranquillamente la palla teo hernandez e teo hernandez con una leggerezza disarmante con una leggerezza veramente disarmante la rigioca lì in mezzo a che si e kier che fondamentalmente se rivedete il replay non ci potevano far nulla perché la palla non era neanche a una via di mezzo c'era era totalmente distante da kier e da e da che si quindi quagliarella lì fondamentalmente è ovvio che un attaccante sta sempre attento sta sempre in guardia sta sempre lì a controllare se c'è qualche errore è ovvio che arrivi prima sulla palla posizione di donna ruma se qualcuno ha da ridire su quella posizione parer mio posizione corretta da parte del nostro gigio perché fondamentalmente si va a pensare che i difensori se la giocano lì su quelle punizioni se per caso tutta la samp li avesse pressati tornavano tranquillamente dal portiere ok e quindi donna ruma non sta sulla linea di porta ma sta sul dischetto del rigore perché diciamo che la traiettoria di un retropassaggio tra difensore e portiere dovrebbe essere la minor distanza possibile e poi lì non ti vai aspettare un errore del genere da parte del tuo compagno poi alla fine espulsione di adrienne anche lì secondo me poca cattiveria non è la prima volta che le altre squadre avversarie rimangono con un uomo in meno e noi fattichiamo nonostante le altre squadre appunto rimangano in 10 quindi non lo so grande giocata del folletto norvegese che ci riporta sull'1-1 e poi super occasione finale con un super intervento adesso non mi ricordo di chi mi sembra di berezinski su che sì che devi al tiro a botta sicura di franco sulla traversa del nostro presidente c'è da dirlo se quella palla fosse entrata ovviamente tutti noi tifosi rossoneri saremo tutti felici però non ci meritavamo assolutamente di vincere questa partita e lo dimostrano anche i voti che voglio andare a vedere insieme a voi voti che sono stati fatti dalla redazione di milan inside quindi adesso li andrò a commentare insieme insieme a voi ecco li andrò a visionare insieme a voi voi comunque ragazzi aspettiamo anche tanti commenti da questi video post partita perché vorremmo interagire tanto con voi infatti all'inizio saranno su youtube ok più avanti quando comunque ci sarà tanta presenza anche sul nostro canale twitch magari ovviamente porteremo gli estratti di questi post partita su youtube però li faremo in live su twitch quindi mi raccomando venite a seguirci su twitch allora i voti i voti che adesso compariranno magicamente allora donna roma sei e mezzo un sei e mezzo a gigio più che meritato fondamentalmente sul gol non poteva farci nulla ripeto pareri questi sono pareri comunque personali è stato incisivo molto sul colpo di testa di torsby grande parata gli ha avuto un ottimo riflesso gigio poi per il resto secondo me non ha commesso errori assolutamente no tranne magari quell'uscita vuoto ma non è successo niente quindi secondo me sei e mezzo più che meritato salemakers salemakers 5 salemakers 5 provato da terzino da pioli è stato un bel azzardo questo un azzardo che non ha ripagato o meglio secondo me la posizione lì di salemakers non è così orrenda da vedere più che altro che non ha parte difensiva il problema è quello sostanzialmente però mettendo salemakers terzino crei una soluzione in più lì davanti perché comunque come avete visto era sempre largo sempre propositivo quindi il suo ce l'ha messo però non è stato abbastanza perché per certe cose forse però se devo essere sincero magari il voto un po troppo severo io magari un 5 e mezzo gliel'avrei dato un mezzo voto in più perché comunque ha creato quel qualcosina nel primo tempo lui teo hernandez 4 cioè qua non penso ci sia da discutere assolutamente errore clamoroso sul gol palla giocata proprio con una sufficienza disarmante poi nel primo tempo comunque ha avuto l'occasione partito dalla nostra difesa è arrivato davanti alla loro difesa quando dall'altra parte aveva cialanoglu completamente da solo perché aveva tutti gli uomini su di lui quindi fondamentalmente tiene troppo la palla fa questi errori qua teo secondo me purtroppo ancora c'è bravo quanto volete quando è in partita però ancora troppo 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 da migliorare sotto certi punti di vista tomori 6 e mezzo tomori prendo dentro anche kier nel discorso perché secondo me sì oltre a gigio sono stati i migliori in campo tomori kier ormai una difesa solidissima gol ovviamente non arrivato per colpa loro tomori che sì sempre coperture perfette super interventi gestiscono bene la fase difensiva quindi non c'è nulla da aggiungere insomma cioè ci danno molta sicurezza che si sei sì che si sei non ha fatto né male né super però comunque ha fatto sempre fatto il suo centrocampo ha gestito bene lì davanti a parte l'occasione finale che vabbè lì lì sfiga ha fatto un grande intervento difensore della samp però comunque nulla da dire ha fatto il suo compito sempre il solito che sì ovviamente forse oggi un po' meno perché la squadra comunque ha risentito ne ha risentito di questa prestazione ben nasser 6 idem ha fatto anche lui dei buoni interventi si è proposto anche lui in attacco lui stava sempre un po' più dietro però ovviamente perché un uomo s'abbassava l'altro s'alzava quindi fondamentalmente la prestazione di ben nasser nel complesso è sufficiente sono d'accordo c'è la no glue 5 c'è la no glue 5 perché lì lì devi fare di più lì quando la tua squadra è in difficoltà tu sei trequartista sei dietro le punte tu hai le soluzioni di tiro come si è visto per la bella parata di audero ma è l'unica che si è vista il problema è quello smistare il gioco l'ha fatto ogni tanto non è ancora il solito ciala ma il ciala pre covid non so quando tornerà sinceramente mi preoccupa questa cosa castiglieco 5 casti 5 perché ci mette ci mette l'anima non c'è non c'è da mettere in dubbio questa cosa di castiglieco però i mezzi sono quelli e castiglieco non non è più non è da milan se vogliamo fare quel salto di qualità castiglieco anche se è una riserva non è da milan quindi purtroppo è un 5 crunic 5 perché non ha creato nulla crunic non so cosa dire su crunic cioè dico 5 perché è un'insufficienza comunque non si faceva vedere non ha creato nulla e quindi fondamentalmente voto giustissimo ibraimovic 5 ibra 5 anche lui quel che ha creato la palla più bella della partita è stata quella palla perché sì al novantesimo che ha fornito un pallone allucinante perché sì che era completamente da solo poi ovviamente intervento e traversa però per il resto beh manca manca poi sempre cioè regà anche un'altra cosa il discorso di oggi che comunque ricollego a ibra perché è sempre lui di solito quanti fuorigiochi quanti fuorigiochi io capisco che su 10 lanci esempio stupido 3 4 possono essere in fuorigioco ma non tutti tutti esagerato poi quindi il voto 5 cioè riguarda anche quello è sempre un fuorigioco ibraimovic oggi non ha fornito non ha fornito niente poi andiamo su i ragazzi che sono subentrati dalla panchina rebic 5 e mezzo rebic 5 e mezzo scusate rebic 5 e mezzo fondamentalmente perché è entrato sì si è visto che aveva la voglia di rimediare alla partita però sempre non lo so cosa dire su rebic sinceramente non lo so cosa dire su rebic perché è entrato ripeto con la voglia di ribaltare la partita di mettere a posto la partita e di far bene ma non fa bene non fa bene gli manca ancora gli manca la cattiveria che aveva un paio di mesi fa gli manca quella voglia che aveva contro la Roma che ha fatto la partita perfetta contro la Roma rebic partita perfetta comunque ha fatto una gran partita anche lì pallone che ti arriva spiovente in aria lui pensa subito a rimetterla in mezzo quando invece poteva provare a calciare in porta non lo so manca manca rebic non lo so a questi alti e bassi che non capisco calulu 6 calulu 6 cambio che mi ha un po' spiazzato perché in partita insieme agli altri ragazzi della chat su twitch pensavamo cambio secondo me azzeccato perché fai calulu al posto di castieco alzi salemakers e metti calulu terzino al posto di salemakers che si è alzato invece quando ho letto salemakers al posto di calulu sono rimasto un po' boh quindi secondo me la scelta di pioli che non mi è piaciuta troppo preferivo questa soluzione che ho detto prima però calulu 6 ci ha messo il suo ha creato occasioni pericolose con qualche cross e ha fatto il suo comunque una partita sufficiente tonali tonali 6 e mezzo tonali 6 e mezzo giusto perché è entrato e ha fatto bene fatto gli interventi in chiusura molto belli ha creato anche qualche combinazione lì davanti interessante è un tonali che non mi aspettavo entrasse così bene tra virgolette in una partita così visto che tutta la squadra era in difficoltà mi aspettavo fosse il solito tonali invece devo ammettere che questa partita non mi è dispiaciuto non mi è dispiaciuto arriviamo al follettino ad aughe è un 6 e mezzo super meritato perché ci ha messo il suo anche lui in fascia ha driblato ok ha perso qualche volta la palla però comunque dovete capire che è una riserva comunque è un è un giocatore che arriva da una realtà diversa da quello che può essere il milan quindi tutte le volte che comunque ha giocato ha dimostrato di avere un un grande potenziale a parer mio oltre al gol col napoli al gol in europa league anche oggi comunque se ci pensate ha fatto un gran gol perché che si l'ha servito al posto che sto pare calciare di prima a chitto come veniva regà è arrivato in area finta di tiro ha mandato al bar i difensori e l'uscita del portiere e poi la piazzata sul secondo palo con collei che collei regà oggi secondo me è stato il migliore della samdori sembrava sergio ramos con collei che comunque alto due metri che copriva la porta sul secondo palo aughe ha fatto un gran gol e secondo me è entrato bene quindi sei in mezzo azzeccatissimo pioli voto finale al mister cinque e mezzo per il semplice fatto che innanzitutto la sostituzione calulu salemakers non mi ha convinto secondo me avrebbe fatto meglio a togliere casti alzare salemakers e poi ovviamente calulu terzino e poi anche per il fatto che secondo me rebic anche se ha fatto quel che ha fatto però durante la partita non potevano saperlo rebic secondo me a mio parere era da mettere prima assolutamente era da mettere prima sempre questo vizio qua di aspettare un attimino pioli e quindi niente sostanzialmente queste sono le votazioni scusate le valutazioni se non siete d'accordo se non siete d'accordo se avete pareri mi raccomando scrivete qua sotto nei commenti su youtube che ovviamente andrò a andremo a rispondere ai vostri commenti e poi vi aspettiamo il live sul canale twitch per appunto parlare tutti insieme e reagire alle partite del milan quindi detto ciò partita che fa male lascia molto l'amaro in bocca complica parecchio il cammino per la champions perché comunque se stasera la juve dovesse vincere col torino capite che inizia veramente a diventare un po' preoccupante la situazione quindi niente ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare il follow al canale twitch di milan inside di iscrivervi al canale youtube di milan inside e anche se volete al mio canale youtube perché questi video qua usciranno sia sul mio canale youtube sia sul canale youtube di milan inside inoltre vi ricordo che domani troverete la reaction editata qua su youtube quindi niente ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto spero di aver detto cose che comunque vi abbiano cioè abbiate apprezzato le cose che ho detto e niente vi aspetto su twitch in live per la prossima partita col milan su milan inside parma milan comunque troverete tutti i link in descrizione dei nostri social io vi ringrazio ci becchiamo alla prossima ciao a tutti